Le Marche sono la prima regione ad occuparsi della programmazione della Commissione 1 per il 2016, oggi è stata approvata una proposta di risoluzione, entrando nei contenuti di cosa si tratta? Giustamente siamo la prima regione, un atto molto importante, abbiamo iniziato a dire la verità in fase scendente questa politica europea che cerca di far partecipare i territori autonomi, le regioni, proprio per diventare integrazione europea, sentire i cittadini dentro l'Europa e partecipare a quella che è la formazione degli atti legislativi, quindi questa è una fase che noi abbiamo aderito subito, con forza, potevamo anche non farlo, oppure scegliere strade diverse, invece in realtà su 11 temi che la Commissione europea ha preparato nel proprio programma, ben 10 sono quelli che noi entriamo dentro, anche perché l'undicesimo è il terrorismo nella nostra competenza, quindi sono tutti temi di primaria importanza, soprattutto quella risposta alla crescita economica, utilizzando minor risorse se è possibile e soprattutto dalle risposte ai giovani, all'integrazione europea, quindi sono tutti temi che noi affronteremo di volta in volta e in questa risoluzione elenchiamo quali sono le cose che noi vogliamo entrarci in merito con delle risoluzioni e con delle proposte.